Rieccoci puntuali alle previsioni meteo. Scendono le temperature con massima registrata di 10 gradi e 5 per la minima, venti moderati con cieli nuvolosi e qualche pioggia rellina sparsa, temperature che gradualmente torneranno a salire, cieli poco nuvolosi per l'intera giornata di domani con un nuovo campo di alta pressione che abbraccerà l'intera Puglia, garantendo tempo stabile e assolato su tutta la regione. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al resto della nostra programmazione. Arrivederci!